Un re convulse per la politica lucana, l'impasse del centro-sinistra rispetto al nome che dovrebbe riuscire a mettere d'accordo tutti e consentire anche in Basilicata, come in Sardegna e Abruzzo, una coalizione di campo largo o campo giusto, mentre sembra avviarsi verso una via di risoluzione, ritorna ad intricarsi. La figura di Angelo Chiorazzo, proposta da Basilicata Casa Comune, continua a non essere percepita come profilo di sintesi, tanto da creare spaccature nella PD che in parte lo aveva accettato, veti soprattutto nazionali del Movimento 5 Stelle. Consolidatesi le voci di ritiro della sua candidatura per l'ufficialità o altri colpi di scena occorrerà attendere. Quello che succederà in queste ore per le regionali in Abruzzo, oggi al voto dalle 7 alle 23, dove il campo largo esiste e l'eventuale vittoria in un vero e proprio feudo meloniano, sarebbe un significativo segnale che insieme si vince e sarà tenuto sotto stretta osservazione della Basilicata. Riunioni si infittiscono e rumor strapelano ma senza solidità. Proprio questa mattina Marcello Pittella, ex governatore, oggi in azione con una post su Facebook chiosa. Abbiamo contestato il metodo di scelta del candidato presidente dall'inizio e si continua a sbagliare ancora. Tre persone chiuse in una stanza pensano di poter decidere per tutti. L'eventuale coalizione viene ignorata e nel silenzio complessivo ci si aspetta poi l'ubbidienza. Le interlocuzioni intanto continuano serrate senza sosta fino alla fumata finale attesa per oggi. Sembrerebbe esserci un clima di fiducia rispetto ad un accordo. Intanto Chiorazzo stamattina si fa sentire ancora e annuncia. Nasce Umbria Casa Comune. Una fattiva collaborazione con Basilicata Casa Comune ed altri fermenti simili presenti sul territorio potranno rappresentare un valore aggiunto per il nostro paese.